Ciao amici miei, buon pomeriggio amici di youtube o buonasera dipende quando guarderete questo video oggi non vado in stream quindi ne approfitto per registrare questo breve video post patch con l'aggiornamento su tutte le tattiche insomma dato che qui la situazione è critica ci hanno tolto i lanci dopo una patch fatta live quindi nemmeno in aggiornamento nemmeno da scaricare ci hanno cambiato il gioco ce l'hanno rallentato di brutto e di conseguenza è cambiato anche un po' l'approccio alla partita soprattutto da chi compete e soprattutto da molti di voi che mi stanno scrivendo su instagram ma flo non riesco più a attaccare non riesco più a fare i tuoi lanci non riesco più a fare una cippa di minchia e giustamente oggi siamo qui per fare un grosso refresh natalizio delle tattiche con quelli che secondo me sono i moduli che alla fin fine vanno meglio quindi non perdiamoci in chiacchiere raga io ne approfitto anche per ringraziarvi al volo del supporto che mi state dando nel canale viola veramente anche qua su youtube o su tutti i vari social sono onorato e cerco di portarvi sempre più contenuti possibili sebbene sia difficile fare content dedicati per ogni social adesso non perdiamoci in chiacchiere e partiamo allora vabbè questa qua è una squadretta momentanea che ho fatto ora cercherò di prendere Mbappé nuovo che veramente fa uno sport a parte raga e poi dovrò dovrò cambiare un po' di robetta perché qui De Jong non mi sta piacendo più ora che i lanci sono anche un po' andati offline non serve nemmeno più di tanto avere il centrocampista che ti faccia il lancio sempre perfetto di conseguenza cambia il gioco cambiano anche un po' i moduli partiamo allora premetto che io uso sempre il mio 4 3 2 1 quindi non l'ho non l'ho toccato ve lo farò rivedere secondo me quest'anno i moduli con tre centrocampisti sono i moduli favoriti ma anche anche il rombo più o meno ha la stessa diciamo forma di questo 4 3 2 1 e che rimane un modulo molto molto forte questo video qua raga ve lo faccio senza tagli ve lo butto così in nature quindi scusate se a volte vado un po' a rilento però calibro bene quello che vi devo consigliare allora io partirei dal modulo che al momento è un modulo che è tornato a tutti gli effetti il 4 2 2 2 io adesso abbasso un po' l'ampiezza perché secondo me il 45 è ancora meglio allora il 4 2 2 2 raga sembra essere tornato bello duro quindi ve lo consiglio equilibrato 45 78 equilibrato passaggi diretti 45 sempre sei giocatori in area mettiamone due nei calci d'angoli magari vi metterò un tutorial perché piano piano sto imparando a batterli pure io siamo solo a nel 2023 però piano piano andiamo avanti per quanto riguarda le istruzioni allora qui ci sono diverse parrocchie diverse scuole di pensiero per quanto riguarda i terzini io vi dico sì potete usare il resta dietro ma potete anche usarli sbloccati io userei il resta dietro e i sovrapponiti che sono una hit molto molto belli li stavo mettendo in game in realtà i sovrapponiti però anche dall'inizio mi gasa difensore centrale e portiere ovviamente non tocchiamo nulla ai gc ho messo resta dietro e copricentro e devo dire che vanno va perfettamente come al solito non metto non credo nemmeno ci sia ecco l'intercetta linee passaggio io non mi piace raga preferisco portarmi leggermente un po' più manuali però provate pasticciate con queste tattiche insomma cercate di creare sempre più più situazioni possibili io a destra qua ovviamente avendo tre centrocampisti nel modulo iniziale ho messo pedri l'ho adatto un po' al momento però se il modulo si risulterà diciamo più forte del del 4-3-2-1 ovviamente farò una squadra per questo 2-2-2 io ho messo rientra in difesa ed entra per il cross ed entra in area per il cross ai due COC che sono una grande grande hit per quanto riguarda le punte e rimani centrale inserisci te alle spalle e rientra in difesa una e l'altra senza inserisci te alle spalle vi dico la verità raga inserisci te alle spalle se siete rapidi e bravi a fare il lavoro con con l1 con r1 insomma chiamarevi incontro il giocatore e farlo scattare in profondità non serve nemmeno troppo però rimani centrale e rientra in difesa per la compattezza di squadra soprattutto perché le nostre punte sono anche i nostri primi difensori io me l'accollo al pieno proprio al massimo allora quindi dopo il 2-2-2 io passerei a quello che ormai è un evergreen di quest'anno un modulo che probabilmente ci porteremo fino a fine gioco almeno che non lo pacino perché ho già sentito diversi pro soprattutto esteri che si stanno lamentando quindi la cosa non mi fa molto piacere però ha noto la loro opinione anche se non la chiesi sorsetto d'acqua per quanto riguarda il 4-3-2-1 è sempre il solito raga equilibrato 45-90 ho tolto palla lunga equilibrato passaggi diretti ben anche qui 6 giocatori in aria con 45 d'ampiezza 3 o 2 su angoli insomma vedete voi io qua con il 3-2-1 uso 3 non so così esotico tanto lo schema che faccio viene lo stesso istruzioni sempre le stesse resta dietro al TD che potete mettere anche sovrapponiti se vi piace un po' più un po' più strong secondo me i TD ora devono essere un po' il valore aggiunto della vostra squadra perché adesso si attacca molto molto meno con con diciamo la la rimozione forzata di questi lanci di conseguenza bisogna cercare di creare superiorità il più possibile ovviamente senza sbilanciarsi troppo però sono dei rischi che ci dobbiamo prendere quindi se non vi piace la profondità troppo alta se non vi piacciono i terzini sbloccati vi piace stare un po' più bassi abbassate profondità e mettete il resta dietro e basta il terzino destro per quanto riguarda il sinistro sempre e solo sovrapponiti senza restare dietro in attacco perché libero di salire un bel treno un bel Cap de Villa un Teo Hernandez se riuscite sono veramente degli ottimi degli ottimi terzini per questo modulo allora allora io vi ricordo che per questo 4-3-2-1 noi difendiamo con il 4-4-2 di conseguenza amici miei il nostro Pedri la nostra mezzala a destra andrà nel 4-4-2 difensivo in molti mi hanno chiesto flo ma devo switchare modulo quando uso il 4-3-2-1 devo switchare mettendo difensivo in un 4-4-2-2-1 no cazzata raga le istruzioni mandano già i giocatori in automatico ovviamente per nella fase difensiva di conseguenza non serve nulla è già tutto settato basta copiare e incollare le tattiche ovviamente pasticciate anche un po' io vi consiglio di pasticciare soprattutto per quelli davanti e anche un po' per i terzini i cc alla fin fine non serve tutto questo lavoro allora mezzala di destra default non toccate nulla va una hit così e soprattutto in difesa vi andrà a fare il un grande errore l'ED per quanto riguarda il il cdc resa dietro in attacco copricentro Yaya Toure il faro di questo modulo il giocatore che gioca nella tasca il giocatore che si viene a prendere la palla che la lavora il giocatore con cui si può fare un German Cross anche veramente grossa hit Yaya poi lo sto amando e De Jong mezzala di sinistra solo copricentro alcuni li mettono resta dietro io non io preferisco preferisco vedere la mia mezzala inserirsi anche se in realtà spesso e volentieri mi va un po' fuori mi sta un po' più avanti rispetto a Yaya quindi vedete voi pure qua se mettere o meno gli resta dietro in attacco fate voi bis per quanto riguarda le punte Ronaldo l'attt il centrale e l'atd che in questo caso è Mbappé gli mettiamo rimani in avanti e rimani centrale perché nel nostro 4-4-2 in fase difensiva vanno a fare le due punte ovviamente Adalovayran ovviamente sempre rimani centrale però rientra in difesa per andare a fare le S questo qua è un modulo di cui non sto nemmeno troppo a parlarvi vi ho fatto una testa così quest'anno ormai lo conosciamo lo conosciamo a memoria il 4-3-2-1 di conseguenza snocciolate ve lo provate lo pasticciate che è sempre quello è sempre quello il mio consiglio provate pasticciate fate cose allora prossimo modulo fase difensiva vi volete chiudere a riccio come dei pezzi di merda Itas in weekend league in rivals il 5-4-1 è quello che fa il caso vostro equilibrato anche qui io l'ampiezza 45 quest'anno la sto adorando perché mi sento sempre equilibratissimo sia in fase difensiva che in fase offensiva equilibrato 45-71 ovviamente stiamo belli dietro equilibrato possesso palla ora vi spiego il perché 45 di ampiezza e 6 giocatori in area 3 su angoli può essere anche 2 anzi qua è un modulo difensivo andiamo a mettere 2 su angoli allora possesso palla possesso palla perché ho avuto un voice crack da 16enne il possesso palla perché noi ovviamente difendendo con ben 9 uomini di movimento escluso il portiere avremo ovviamente anche con il pressing avversario un almeno un giocatore libero di portare la palla o comunque di uscire dal pressing sul primo controllo che è quello che più manda in tilt tutti i player me compreso di conseguenza tenendo la difesa 5 l'asa e l'ada della difesa 5 che adesso me li vado a mettere un po' bene però vediamo un po' come camparli in aria allora chi mi lo mettiamo qua è gli amic lui si è appena cambiato squadra quindi devo andarli a mettere un po' un po' al meglio eccoci qua comunque qui bene o male io quando siete pressati perché questo modulo qua di solito viene usato quando si è pressati io vi consiglio sempre di tenere il cuoio sull'esterno e di non passare troppo la palla raso terra soprattutto se serve spazzate se serve avete un super sub alto mettetelo sull'esterno dove sta il mio alovairan dove sta il mio Mbappé e gli buttate una palletta alta con il tasto del cross sponda di testa e si va dritto in porta soprattutto grazie ai super sub passiamo alle cose formali tattiche i dc li lasciamo default stessa cosa succede alle ali in realtà io la destra la lascio sbloccata perché dipende dalla situazione in realtà poi me lo vado me lo vado a cambiare in game il resta di tre attacco lo metto a sinistra potrei metterlo anche a destra ripeto dipende chi metto come il super sub se vado a mettere quadrato ad esempio 87 lo lascio sbloccato perché almeno creo superiorità e abbasso l'avversario per quanto possibile cerco di perdere più tempo possibile nella metà campo avversaria che questa qua è anche una bella chiave per quanto siete pressati detto questo andiamo avanti io qua ho messo rientra in difesa e gioca largo ad entrambi gli esterni per lo stesso motivo che vi dicevo prima palla alta spizza spizza di testa e si mi hanno suonato ma io finirò il mio bel video ci ho detto e non andrò non andrò ad aprire perché qua siamo dei lavoratori professionisti rientra in difesa e gioca largo agli esterni per quanto riguarda i centrocampisti resta dietro e copri centro a entrambi ovviamente bisogna essere più conservativi possibili con questo modulo di conseguenza gli mettiamo anche rimani centrale rientra in difesa alla punta più compatti possibili più itas possibili ultimo modulo 4141 modulo che non è male equilibrato tipo il 442 però dicevo il 4141 modulo molto più equilibrato un po' come il 4321 però più conservativo in fase difensiva mi piace molto soprattutto con con l'utilizzo del del cdc che non non mi dispiace lo sto usando a 45 d'ampiezza 71 di profondità equilibrato passaggi diretti 35 722 che non è non è affatto male andiamo alle istruzioni di questo ultimo modulo che sembra molto equilibrato voi mi direte Flo ma perché c'è De Jong qua perché davanti alla difesa serve uno non tanto che schermi che difendi come che difenda come fa il buon Yaya nel 4321 bensì serve uno che che faccia lavoro un po' più di impostazione secondo me di conseguenza gli esterni gli lascio libri di sovrapporsi a entrambi per quanto riguarda ah vabbè un pacco di merda me l'hanno lasciato qua sotto per fortuna godo per quanto riguarda il cdc troppo professionale il bro per quanto riguarda il cdc resta dietro in attacco copertura al centro anche lì solito però un po' più volto alla fase di impostazione edi rientra in difesa ed è in trenara per il cross es rientra in difesa ed è in trenara per il cross classici esterni usati come gli esterni di un 442 alla mezzala di destra che è un po' più difensiva infatti qua si va a mettere quello un po' più difensivo che gli agliature li mettiamo resta dietro il copricentro mentre alla mezzala di sinistra che deve andare a supportare la punta che in questo caso e pedri gli mettiamo copertura al centro e basta questo modulo qui raga è un modulo da pasticciare un po' non è affatto male secondo me ne vale la pena provare che si creano delle belle situazioni un modulo di possesso ma anche di ripartenza quando c'erano i lanci adesso più o meno insomma si zoppica un po' con tutti i moduli questo qua quindi era il rapidissimo beh un quarto d'ora più o meno le mie palle rapidissimo recap delle tattiche natalizie post patch io vi ringrazio per il supporto adesso andrò a recuperare il mio pacco e niente se avete dei qualsiasi tipo di domande sotto nei commenti mi raccomando pollice in su e follow se volete per questo video senza tagli così nature buttato vi mando un bacione e vi ringrazio per la pazienza ciao ciao